Come Mugello è un piacere di nuovo ospitare per la seconda volta l'iniziativa Terre degli Uffizi che vede opere degli uffizi ospitate nei luoghi del Mugello. Oggi siamo al Palazzo dei Vicari, uno dei gioielli del Mugello dopo aver chiuso da pochi giorni la mostra al convento di Bosco ai Frati con il capolavoro di Froman che ha visto turisti incrementati, visitatori incrementati del 264% rispetto al periodo precedente. Questo è segno tangibile della portata, del valore che questa iniziativa porta sul territorio. È un'iniziativa che vede coinvolta l'Unione dei Comuni, il Comune di Scarperia e San Piero e quindi i Comuni del Territorio, il Museo degli Uffizi e Fondazione Cere Firenze che ci dà una grossa mano per l'allestimento della mostra e per tutto quello che concerne la possibilità di offrire questi capolavori al pubblico. Quindi con grande piacere inauguriamo di nuovo la mostra sapendo che sarà di nuovo una tappa di un percorso che ci vedrà nei prossimi anni di nuovo offrire luoghi splendidi del Mugello per fare un abbinamento particolare con le opere degli Uffizi.